Valve ha spiazzato tutti con la sua Steam Deck, un prodotto che nonostante i paragoni quasi scontati non sarà una rivale di Nintendo Switch. Troppe le differenze, non solo in termini di proprietà intellettuali. Valve offrirà una libreria pressoché infinita e possibilità di espansione e personalizzazione illimitate, ma è tutto oro quel che luccica. Prima di proseguire, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere nessun video di EvryEye.it. La più grande similitudine fra i due dispositivi è ovviamente il display. Un pannello da 7 pollici di dimensioni talmente ridotte da costituire un vero e proprio valore aggiunto per le prestazioni. Per il resto, le due console non potrebbero essere più distanti fra loro. La spina dorsale di Nintendo Switch sono le sue esclusive. È come se corresse su un binario separato rispetto alle altre console. Con Steam Deck, Valve punta convincere anche i più indecisi. Ottime le possibilità di espansione, persino tramite una dock, che la trasforma in un vero e proprio PC con tanto di supporto a mouse e tastiera. L'hardware di Steam Deck comprende una APU AMD Zen 2 a 4 core e 8 thread, grafica RDNA2 con 3.5 GHz di frequenza massima e 16 GB di memoria LPDDR5, per un totale di 1.6 Teraflop di capacità computazionale su un display a 720p. Naturalmente ci sarà anche spazio per il ray tracing e sarà molto interessante vederlo in azione su un dispositivo di queste dimensioni. Valve ha dichiarato che i 30 fps sono solo una base di partenza, perché con tecnologie come Super Resolution di AMD si potrà ambire anche ai 60 frame al secondo. Con questa tecnica si possono raggiungere boost incredibili. Applicando i preset più aggressivi è possibile quasi triplicare il frame rate. Mentre chi preferisce un'esperienza di maggiore qualità troverà un valido alleato nella modalità Ultra Quality, che permette di aumentare gli fps anche del 30%. Steam Deck ha grandi potenzialità, ma la più grande incognita rimane Steam OS. Il sistema operativo di Valve, basato su Linux, potrebbe rappresentare il vero limite di questo dispositivo. Se l'hardware è tagliato su misura per lo schermo a disposizione, i titoli presenti in libreria potrebbero non sempre essere ottimizzati a dovere, perché Steam OS è basato su Linux e come tale gran parte dei titoli girerà attraverso Valve Proton, un sistema che permette di eseguire su Linux giochi scritti per Windows. Valve ha già fatto la sua dichiarazione d'intenti. L'obiettivo è quello di raggiungere la piena compatibilità dei titoli disponibili sulla piattaforma, ma è proprio qui che nasce l'altra enorme differenza con Switch. La proposta di Nintendo, infatti, basa la propria solidità strutturale sul sistema chiuso di cui fa parte, con un sistema operativo proprietario e titoli generalmente ottimizzati a puntino per lei. Steam Deck, invece, farà affidamento alla più vasta libreria di titoli esistente e sarà un'impresa titanica a ottimizzarli a dovere per questa macchina. Steam OS, però, è anche ciò che rende questo dispositivo così interessante, visto che consentirà un controllo pressoché totale sulla personalizzazione dell'esperienza di gioco. Dalla mappatura dei tasti alle preferenze in-game, non c'è dubbio che questa soluzione premierà l'azienda rispetto all'approccio più classico delle console. Steam Deck è un PC e come tale permette una grande libertà di scelta, ma la sua longevità è legata a doppio filo alle ottimizzazioni che l'industria videoludica sarà in grado di regalarle. L'appuntamento è fissato per l'inizio del 2022, perciò non ci resta che attenderla. Del resto, solo il tempo saprà dirci se Steam Deck sarà una rivoluzione o soltanto una bellissima meteora.